Ok, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, sono super 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 emozionata perché è un video speciale di 100 iscritti, siamo arrivati a questo traguardo, quindi vi ringrazio tantissimissimo chi si è iscritto, chi si iscriverà, a tutti, e vi mando un super bacio sia io che la mia felpa di oggi, e vi chiedo inoltre se sotto qui ai commenti, cioè se mi iscrivete, tutti i video che volete che io registrerò, così vi leggo e li farò a tutti. Quindi detto questo, iniziamo con le domande, e me le sono scritte tutte su questo quadernino cioccolatoso bellissimo, e prima di iniziare però vi volevo dire che io, per chi non lo sapesse ovviamente, mi chiamo Viviana, ho 19 anni, e l'idea del canale, del nome del canale, questo gioco di parole Vivi Fashion è nato proprio dal mio nome, Vivi, perché tutti mi chiamano Vivi, e Fashion che è appunto l'argomento che il canale tratterà, e poi il gioco di parole sta nel Vivi, Vivere Fashion, quindi alla moda comunque. E poi che altro vi posso dire di me? Che sono figlia unica, studio lingue all'università, per l'esattezza inglese e spagnolo, ma poi dal terzo inizierò anche francese, ma fa niente, andiamo oltre. E sono nata il 30 agosto e sono del segno della vergine. Fatemi sapere voi che segno siete, e anche qualcosa di voi, magari per conoscerci meglio. Ok, io direi che iniziamo subitissimo con le domande, e se le ritrovo sarebbe anche bello. Ok, sì. Allora, Lediri mi ha chiesto, grazie della domanda, mi ha chiesto dove vivi? Allora, io vivo a Roma, amo, amo, amo questa città, e diciamo che vado sempre a Via del Corso, Porta di Roma, o anzi, meglio, andavo sempre prima di questa quarantena. E fatemi sapere nei commenti se c'è qualcuno di voi che vive a Roma, quindi scrivetemelo. Ok, quindi questa è la prima domanda, e ringrazio ancora Lediri per avermela chiesta. Poi, Paolo Ali, rido, perché tra parentesi è il mio ragazzo, mi ha scritto, cioè mi ha fatto questa domanda Sei fidanzata? E io tipo, essendo lui il mio ragazzo mi verrebbe da dire sì, però a quanto pare lui che mi ha fatto questa domanda non lo sa, sto scherzando. E poi mi ha scritto, ma quanto sei bella? E penso che l'abbia fatto per farsi perdonare della prima domanda, no, sto scherzando, grazie. Sì, io sono fidanzata con lui appunto, lo avete visto in moltissimissimissime challenge, e si chiama Paolo, io lo chiamo Nini, soprannome molto strano, però questo è. E siamo insieme da quasi un anno, e penso che faremo un anno insieme in quarantena. Che bello! Comunque, spero di no, perché lo facciamo l'8 aprile e la quarantena dovrebbe finire il 3. E, però, non è niente di sicuro. Comunque, questo è quanto. E poi, la Katie mi ha scritto, quando vai a fare shopping preferisci magliette o scarpe? Allora, qui è davvero un tasto molto dolente. Allora, premetto che io amo, 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 amo fare shopping. Cioè, stare sempre, tutti i giorni della mia vita a fare shopping. Quindi, infatti, sarà la prima cosa che farò una volta che questa quarantena sarà finita. Andrò a sballeggiare tutti i negozi. E cosa preferisco io tra magliette e scarpe? Allora, io amo comprare tutto, però compro molto più spesso magliette, felpe, pantaloni, quindi più capi d'abbigliamento rispetto alle scarpe, anche se le adoro. E quindi questo. Grazie anche a te per la domanda. Poi passiamo ad Algebra, che è un mio amico. Mi ha chiesto, andrai al prossimo Romics? E io non vado pazza per il Romics. Preferisco tipo il Cosmoprof, che è un evento di trucchi che organizzano. Solo che, cioè, dovevo andare a Bologna proprio con il mio ragazzo, ma per, cioè, a causa coronavirus hanno spostato proprio tutto il Cosmoprof, ovviamente. Poi, prossima domanda, sempre sua, è Farai sempre video di fashion vlog o cambierai anche argomenti tipo il gaming? La risposta è di sicuro no, cioè, non farò mai, penso, video sul gaming, perché io non so nulla a proposito del mondo del gaming, quindi mi piace molto di più il mondo del fashion, che è quello che vorrei trattare io, almeno ci provo. Ok, poi, un altro mio amico che ringrazio tantissimo per le domande che mi ha fatto, è Giovanni, che mi scrive Quando vedremo Paolo truccato? Allora, qui c'è una lunga storia dietro, perché io avevo fatto un video con, appunto, famoso ormai Paolo, che è il mio ragazzo, per, cioè, quando lui doveva indovinare i prezzi dei miei trucchi. Andatelo a vedere se ve lo siete perso. E avevo indetto l'hashtag Paolo truccato per far sì che io truccavo lui. E ti dirò, anzi, ve lo dico a tutti, che il video appena finita la quarantena sarà subito registrato e messo online, subito, anche contro la sua volontà. Quindi, tra pochissimo, si spera, mi crociamo le dita, lo vedrete. Poi mi chiede, farai altri challenge in futuro? Di sicuro sì, soprattutto con Paolo. Ci piace un sacco fare le challenge insieme e spero che piaceranno anche a voi. Poi, come passi il tempo in questa quarantena? Allora, ho fatto un video apposta con le 12 cose che io faccio maggiormente a casa, quindi andatelo a vedere. Quindi, praticamente, mi alleno, guardo serie TV, guardo film, guardo serie TV, faccio skin care, maschere, faccio di tutto. Quindi, andatelo a vedere se vi va. E poi mi fa, quale serie Netflix hai visto o stai vedendo? Allora, la mia serie Netflix preferita in assoluto è Gossip Girl. Io amo quella serie, l'amo tantissimo, ma mi piacciono anche, vi ho visto. Pretty Little Liars, Jane the Virgin e Once Upon a Time. Fatemi sapere voi quale serie vi piace, ma io queste le amo davvero tanto. Ah, e con il mio ragazzo abbiamo visto Riverdale ed Elite. Ci piace guardare queste qui un po' più thriller, misteriosi, insieme. E poi, Catherine, che ringrazio tanto anche lei per le domande, mi ha scritto, cioè mi ha chiesto Ti piace andare al cinema? Che genere ti piace? Allora, io amo, 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 amo anche qui andare al cinema. Ci vado spessissimo, soprattutto d'inverno, perché magari se piove andiamo al cinema. E io amo i film rosa, anche quelli romantici, soprattutto quelli Disney che hanno trasformato in film, tipo ultimamente hanno fatto Aladdin, Maleficent, Maleficent 2, li amo tantissimo. Però io, diciamo, ho paura dei film horror, ma con il mio ragazzo, che è più fifone di me, adoriamo vederli, perché io, vi giuro, adoro troppo come lui si spaventa per ogni singola cosa. Quindi sì, anche gli horror in fondo. Poi, qual è il mio cartone Disney preferito? Il mio cartone Disney preferito, qui è difficile dirlo, di sicuro quelli con le principesse, quindi, la bella addormentata del bosco, la sirenetta, questi qui. Però forse vorrei dire la bella e la bestia, sì. Per quel film, cioè, lo adoro. Poi mi ha chiesto, l'anime manga preferito? Io non li leggo i manga, la mia migliore amica è appassionata, ma io no. Poi, ti piacerebbe visitare il Giappone? Allora, sì, sì, perché io, cioè, amo viaggiare, vorrei visitare tutto il mondo. Ho già visitato l'America, New York, poi l'Australia, sono stata, cioè, ad Adelaide e a Melbourne, e poi, vabbè, Spagna, Valencia, Barcellona, cioè, praticamente in tutta Italia e a Venezia ho amato. Quindi viaggiare è una delle cose che mi piace fare davvero di più in assoluto ed è un'altra cosa che farò appena finirà sempre tutto questo. Quindi, ringrazio lei per le domande e le domande che mi avete fatto sono finite qui, però volevo aggiungerne alcune, io. Una di queste, cioè, le ho selezionate su internet, quelle un po' più, magari, carine, è Dimmi una figuraccia che hai fatto... Allora, ho fatto tantissimi figuracce nella vita, ma una che mi è rimasta troppo impressa. Allora, ve la racconto. Io stavo da Victoria's Secret, quindi al centro commerciale del negozio, con il mio ragazzo. Io amo provare tutti i campioncini, ci stanno i profumi, tutto. Io che faccio sempre? Li testo prima di comprarli, ovviamente. Quindi, che ho fatto? Io ero qui, il mio ragazzo mi era di fronte, io ho preso questa boccetta che non capivo come si erogasse il prodotto, era tipo schiuma fatta tipo col cosino per il sapone. Quindi, io stavo cercando di... stavo cercando di farla venire fuori, sta schiuma, ma non veniva fuori, non veniva fuori. Allora, ho tipo premuto, la schiuma è esplosa fuori, ha ricoperto il mio ragazzo. Veramente, cioè, tutta la testa, tutta la maglietta di schiuma. A me la schiuma mi è andata sui capelli, la schiuma è andata sugli altri prodotti. Meno male che non c'era tantissima gente, ma il commesso mi ha tipo guardato così. Io tipo, oh no! lui, cioè, che era ricoperto di schiuma, poverino, cioè, lui ci credeva. Io, 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 cioè, quando succedono queste cose, io vado nel panico, però è un panico che mi fa ridere un sacco, quindi, diciamo che, meno male che stavamo insieme già da tanto, se no mi ero, cioè, mi ero sotterrata, cioè, mi sarei proprio sotterrata. Ok, questa è una delle mie figuracce più, più imbarazzanti. Poi, il mio animale preferito? Il mio animale preferito è, senza dubbio, il gatto. Io amo i gatti, voi siete team cani o gatto? Io, ovviamente, gatto. Ho anche un gatto. Poi, in generale, io amo tutti gli animali. Vi confesso che da piccola il mio sogno era diventare una veterinaria, però, poi, dal momento che se io vedo un animale che sta male, mi sento male anch'io, ho dovuto abbandonare questo sogno. Ho anche una tartarughina d'acqua, poi, in giardino, con la mia famiglia, perché, diciamo, io sono in un palazzo con mia nonna, mia zia, mia cugina, siamo tutti insieme. Sotto abbiamo due cani, un altro gatto e tantissimi uccellini, pappagalli, canarini, abbiamo un sacco di animaletti, che amo, io li amo, gli animali. Poi, colore preferito? Colore preferito? Sicuramente il rosa. Io amo ogni sfumatura del rosa, però devo dirvi che, penso sia il mio secondo colore preferito. Io amo tantissimo anche il bianco, un colore bellissimo, soprattutto per lo smalto. Io lo amo. Sì, penso sia il mio colore preferito di smalto, ma non c'entra niente. Poi, estate o inverno? Allora, io senza dubbio estate, io amo, amo l'estate, la piscina, la piscina, il mare, e tutto. Poi, se non è una persona freddolosa, non mi piace l'inverno particolarmente. Fatemi sapere invece voi se siete, cioè se siete, se preferite estate o inverno. Poi, come ultima domanda, perché direi che siamo quasi a 12 minuti, dovevo sbrigarmi, è, cibo preferito? Allora, io ne ho vari. Parlando di pasta, la carbonara, senza dubbio, io la amo, ed è l'unica cosa che cucino, perché sono pure negata in cucina. Poi, senza dubbio, per quanto c'è la pizza, io amo la pizza, soprattutto quella a salsicce e patatine fritte, è la mia preferita. E, parlando di patatine fritte, sono la cosa che non smetterei mai di mangiare. Cioè, se si potesse mangiare solo un cibo al mondo, io direi loro. Quindi, questo è tutto. Fatemi sapere, magari voi, cioè rispondete voi ad alcune di queste domande. E niente, il video è finito, spero vi sia piaciuto, che, non lo so, vi siete fatti due risate, almeno per la figuraccia che ho fatto da Vittoria Secret con Paolo. Veramente, veramente orribile. Questo è tutto. Iscrivetevi al canale, se non l'avete ancora fatto, e commentatemi, appunto, con i video che vorreste vedere. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!